Ciao, sono Gabriele Criniti, imprenditore, formatore e trainer. Insieme al mio team ti do il benvenuto nel nostro blog Formazione Dinamica. Sono ormai 30 anni che ho iniziato ad avviare attività imprenditoriali, acquisendo molte esperienze sia nel settore alimentare sia nel no food. Dopo essermi reso conto che il marketing tradizionale non portava più frutti come in passato, ho cercato e trovato le risposte vincenti che cercavo andando a completare la mia formazione imprenditoriale negli USA e in Inghilterra. Negli ultimi tre anni, grazie alla formazione acquisita direttamente da T.R. Wecker, Bersinger, Robert Kiyosaki e Italo Cillo, ho maturato esperienze di alto valore indispensabili nei nuovi modelli di marketing rapido e vincente. Sono un fondatore, insieme a Elisabetta Tovo, di Formazione Dinamica, società che si occupa del potenziamento del business, delle vendite, formando liberi professionisti e imprenditori ad aumentare le vendite, i clienti e i profitti totali. Mai, come al giorno d'oggi, in un mondo sempre più competitivo e mutevole, la formazione personale e professionale si è dimostrata l'arma vincente per emergere nel business. Siamo tutti consapevoli che l'economia globale si riaffermerà, non certo grazie ai politici corrotti, alle banche usurai o ad altri cialtroni, ma grazie al grande impegno di liberi professionisti e imprenditori straordinari che, con il loro incessante lavoro, creano prodotti e servizi di valore che arricchiscono la vita di tutte le persone. È proprio a queste categorie, i liberi professionisti e gli imprenditori, che principalmente amiamo rivolgere la nostra attenzione, aiutandoli sia per mantenere i clienti acquisiti, sia per trovare nuovi clienti aumentando velocemente i fatturati e i ricavi. È nostro impegno seguire e formare liberi professionisti e imprenditori straordinari, rendendoli abili e consapevoli sia a livello mentale, sia informativo che informatico, guidandoli in un preciso percorso passo passo durante il quale possono apprendere tutte le abilità necessarie. Tengo molto anche la tua piccola o grande impresa, pertanto desidero accertarmi personalmente che tu non commetta gli otto errori clamorosi che stanno decimando in questi ultimi mesi migliaia di aziende in tutta Italia. Per fare questo ho preparato per te un audio training nel quale puoi difendere il tuo business ed evitare di inciampare in un terreno sempre più pieno di insidie, ma anche pieno di fantastiche opportunità. Per ricevere proprio adesso, completamente gratuito, nella tua casella di email e l'audio training gli otto errori clamorosi, compila il form che vedi qui sulla tua destra, inserendo il tuo nome, un indirizzo di email valida e la città dove siede la tua attività. Ti aspetto dall'altra parte. Ciao!